Dal 2 al 4 maggio si svolgerà all'Istituto di Istruzione Superiore V Orazio Flacco a Venosa un evento culturale internazionale, la 36esima edizione del Certamen Orazianum. Ne parliamo con il dirigente scolastico, la professoressa Mim Carlo Magno. Grazie e benvenuta a TG7 Basilicata. Preside, una competizione di eccellenza, anche perché ricordiamo che il Certamen Orazianum vede il patrocinio del Presidente della Repubblica. Allora, qual è il programma? Sì, come ben diceva lei, è una competizione riconosciuta dal Ministero come competizione di eccellenza. Il programma è un programma fitto, come di solito accade per questo evento che richiama studenti non solo dall'Italia ma anche dall'Europa. I ragazzi arriveranno a Venosa il giovedì, ossia appunto il 2 maggio, saranno accolti nel castello Pirro del Balzo per dare appunto subito un senso della realtà locale venosina ricca dal punto di vista sia storico che culturale e con un aperitivo di benvenuto. Poi il venerdì è il giorno fatidico, cioè il giorno della prova. I ragazzi si cimenteranno in una traduzione di un brano raziano, dal latino all'italiano, con la risposta poi a dei quesiti di natura linguistica, storica e filologica. Ci sarà anche una prova artistica accanto a quella canonica di traduzione per i ragazzi che provengono dai licei artistici. Mentre si svolge la traduzione, in Aula Magna invece prende inizio il convegno dedicato alla didattica, un convegno che quest'anno sarà arricchito da una presenza internazionale perché avremo un professore della Università di Sofia della Bulgaria. Il pomeriggio c'è la visita della città per tutti gli studenti e la serata invece è dedicata ad uno spettacolo teatrale a cura del laboratorio teatrale del liceo Razio Flacco, una scoperta della città di Venosa perché il titolo appunto dell'evento teatrale Venosa è un viaggio senza tempo, proprio per far conoscere agli ospiti questo straordinario borgo d'Italia, tra i più belli appunto. Il sabato invece è la giornata dedicata alla premiazione, arricchita quest'anno da un ospite diverso. Abbiamo scelto infatti un dirigente d'azienda, controcorrente rispetto agli altri anni, in cui abbiamo sempre invitato dei latinisti di spicco nel panorama culturale italiano. L'ospite invece è Luca Desiata, un appunto dirigente d'azienda, riconosciuto da Forbes come tra i migliori d'Italia nel 2019. La scelta è dovuta al fatto che questo dirigente gira un po' tutti i licei d'Italia per valorizzare il latino come mezzo per avere successo nella vita. Infatti il suo best seller prende proprio il titolo il latino per avere successo nella vita. Quindi dicevamo una competizione di eccellenza, di eccellenza anche perché sono coinvolte dieci regioni italiane e anche altri paesi europei. Sì, allora il requisito per il riconoscimento dell'eccellenza è appunto la presenza di almeno dieci regioni italiane. E fortunatamente abbiamo raggiunto questo numero che è un numero che si raggiunge sempre di più con fatica perché portare a Venosa studenti che provengono da dieci regioni d'Italia significa portare almeno mezza Italia qui, cosa non semplice. Però anche quest'anno ci siamo riusciti probabilmente perché il certamen è ormai considerato come un evento nazionale che è considerato di grande pregio per gli stessi studenti che partecipano. Abbiamo anche tre nazioni estere, cioè l'Austria, la Bulgaria e la Romania. Preside, un'altra cosa, ecco, voi coniugate, come ha ben spiegato quando ha illustrato il programma, cultura e arte. Cultura, archeologia, perché comunque sì, è un evento che si svolge tra i banchi, diciamo tra virgolette, comunque in una scuola che vede questi ragazzi impegnati nelle traduzioni in latino. però hanno anche occasione di visitare il territorio e quindi di conoscere le sue bellezze artistiche, storiche e anche, ecco, in particolar modo di Venosa legate al paese dove visse Orazio. Sì, Venosa da questo punto di vista si presta molto bene perché coniuga appunto diversi aspetti storici, artistici, letterari, archeologici, paesaggistici, è stata madre di fertili ingegni, da Orazio a Carlo Gesualdo, a Luigi Lavista, al Cardinale De Luca, a Tanzillo. Cioè, davvero un paese che ha delle potenzialità enormi. E infatti, proprio per questo, quest'anno, abbiamo pensato di iniziare una piccola rubrica che affianca ad Orazio altri personaggi illustri. Infatti, la rubrica prende il nome di Venosa, non solo Orazio, per far capire che, appunto, ci sono diversi aspetti che di questo paese vanno valorizzati. Inizieremo proprio con Carlo Gesualdo, che sicuramente è conosciuto a livello internazionale, forse di meno a livello locale e nazionale, perché sicuramente rappresenta un unicum nel panorama della musicologia, il principe dei musici. E quindi dedicheremo uno spazio, di anno in anno, se appunto il tempo ce lo consentirà, le energie, le forze ce lo consentiranno, a far conoscere Venosa attraverso altri personaggi illustri, attraverso le sue bellezze, appunto, di ogni tipo. Quindi diciamo che state dando veramente un notevole, grande, importante contributo anche al fattore del turismo, legato allo sviluppo economico, anche del territorio, perché comunque un territorio ha vocazione turistica sulla carta, ma speriamo che diventi sempre più di fatto. Ecco, nei fatti, mi scusi il gioco di parole, perché come sappiamo, insomma, il turismo ha bisogno di essere rilanciato molto di più. Preside, veniamo al premio. Qual è il premio riservato al vincitore? Allora, un premio in denaro di 500 euro, ma non solo, perché poi abbiamo un premio che è molto più alto, in quanto lo studente vincitore viene inserito nell'albo dei migliori studenti d'Italia, proprio appunto per la valorizzazione delle eccellenze. E vorrei chiudere con un omaggio a questi giovani, perché lei più di me, che è un'educatrice, una dirigente scolastica, sa che spesso vengono sempre criminalizzati un po' questi giovani di oggi, ai quali si danno tutte le colpe, tutte le responsabilità di una società che non va bene, di un mondo che non va bene, e invece forse ci vorrebbero un po' dei valori comuni da condividere, che gli adulti devono trasmettere ai giovani. Però in questo caso i giovani stanno dimostrando la buona volontà, che studiano e che ci tengono a raggiungere certi traguardi. Esattamente, e gli adulti che devono dare l'esempio. Negli anni di esperienza scolastica ho potuto constatare che i giovani sono sempre gli stessi. Noi siamo stati giovani e siamo stati forse appunto come questi giovani, ragazzi che hanno bisogno di exempla, cioè di modelli paradigmatici, e sono quelli che stanno venendo meno. Tant'è che la dimostrazione che ci sono ancora studenti che traducono dal latino sta a significare che quello spirito studentesco non è venuto meno. È venuto meno un patrimonio di valori che non dipende assolutamente dai giovani. Ed ecco che diventa ancora di più fondamentale il ruolo della scuola, perché laddove ci sono adulti che non possono e non vogliono e non sanno dare esempi, deve subentrare la scuola. E la scuola ha il compito di fornire questi modelli, questi esempi, e quali se non quelli che provengono dal mondo antico, di cui dobbiamo essere sempre di più eredi e testimoni. La ringraziamo, le auguriamo un buon lavoro. E a tutti ricordiamo che dal 2 al 4 maggio si svolgerà il Certamen Orazianum a Venosa.